Sono andate a farsi visitare fiduciose di quel rapporto professionale che c'è ci deve essere tra medico e paziente, ma la visita alla fine si è trasformata in un incubo. Quel medico chirurgo di 57 anni avrebbe approfittato del suo ruolo per allungare le mani, toccarle, e lo avrebbe fatto più volte stando alle carte dell'ordinanza del giudice Rinaldi, che ne ha disposto gli arresti domiciliari su richiesta del sostituto procuratore Nicola D'Angelo. Dalle indagini della squadra mobile partite nell'agosto del 2012, il medico avrebbe approfittato di almeno tre pazienti, due ragazze poco più che ventenni e una minorenne, e lo avrebbe fatto in due comuni della provincia di Campobasso, sia come guardia medica, sia nel suo studio come sostituto di un collega che però era all'oscuro di tutto. I poliziotti hanno avviato le indagini un anno fa, quando una giovane donna era andata in questura denunciando di essere stata palpeggiata dal medico nel suo studio. Si sarebbe anche ribellata, sgomenta per l'accaduto incredula. Gli uomini agli ordini del dirigente Annichiarico hanno cercato conferme per inchiodarlo, e queste sono arrivate un paio di mesi fa, quando i carabinieri del paese dove il dottore faceva la guardia medica hanno raccolto la testimonianza di una ragazza, avrebbe subito la stessa violenza della prima, stesse modalità. Ha detto al maresciallo che subito ha allertato la procura, in più la giovane. Ha raccontato che anche un'altra ragazza minorenne sarebbe stata vittima delle attenzioni dell'uomo, sempre nella guardia medica, attenzioni simili alle altre. E lei ha confermato tutto ai poliziotti, anche se i genitori, ha riferito Annichiarico, hanno cercato di minimizzare tutte prove per il sostituto d'Angelo, sufficienti per richiedere la misura cautelare che il GIP ha concretizzato con i domiciliari. L'accusa è violenza sessuale aggravata dal fatto che è un funzionario pubblico e che è una delle sue vittime minorenne. Una storia comunque che sembra avere altri risvolti. Il medico infatti avrebbe anche consumato rapporti sessuali consenzienti nello studio, sempre all'insaputa del collega. Le indagini sono in corso fondamentale, in questo caso ha spiegato il capo della mobile. Ora speriamo che l'esempio dato da queste ragazze sia accolto da altri in genere e da chiunque sia a conoscenza di fatti delittuosi di questa natura venga a riferirli immediatamente alle forze di polizia, proprio per evitare il ripetersi di questi brutti episodi.